High-tech per una lavorazione dei bordi di alta qualità con zero giunzioni come standard. Questa è l'idea di base di tutta la serie Streamer C. Con il suo design compatto, la serie Streamer C offre tutto ciò che serve ad una bordatrice professionale. Sono disponibili due modelli, la Streamer 1054C senza arrotondatore e con una lunghezza totale di poco meno di 4 metri. E la Streamer 1057XLC con una lunghezza totale di poco meno di 5 metri, completamente attrezzata dall'unità di giunzione a tutte le operazioni di lavorazione necessarie fino alla finitura con raschia bordo, raschia colla, spazzole e liquidi di pulizia. Con un avanzamento fisso di 10 metri al minuto, spessori dei bordi da 0,4 a 8 mm, così come spessore dei pannelli da 8 a 60 mm copre una vasta gamma di applicazioni. Streamer è dotato di un grande pannello di controllo touchscreen da 15,6 pollici. Ruotabile e inclinabile, permette un funzionamento ergonomico in qualsiasi posizione. All'interno lavora un computer industriale back-off di ultima generazione, che è appositamente ottimizzato per le esigenze delle nostre bordatrici e può essere collegato alla vostra rete, ad esempio per la manutenzione online. Il nuovo concetto di funzionamento di Streamer C con il suo controllo grafico vi ispirerà con la sua semplicità e il suo funzionamento intuitivo. Per esempio, le operazioni di lavorazione possono essere selezionate o deselezionate attraverso la grafica del pezzo, semplicemente toccando il touchscreen. I pulsanti 1, 2 e 3, 4 permettono di passare rapidamente dalla lavorazione del bordo longitudinale 1, 2 alla lavorazione con copiatore d'angolo 3-4 per il terzo e quarto bordo di un pezzo. Un'ampia memoria di programma, con la registrazione completa di tutti i dati operativi, così come i messaggi di servizio in testo semplice, sono standard. Anche il consumo di cartucce adesive è registrato dal controllo. Un'amministrazione utente individuale con protezione tramite password e autorizzazioni individuali può essere impostata per le vostre esigenze. VICE sta per Visual Setting e fornisce un supporto visivo intelligente per l'operatore della macchina. Il VICE fornisce come un registro digitale tutti i valori di impostazione dei contatori digitali e dei manometri per impostare la macchina in modo rapido e sicuro. In questo modo, VICE vi aiuta ad evitare errori di impostazione e a ridurre al minimo i pezzi di prova. Il sistema VICE è unico in questa classe e non vorrete più farne a meno sulla vostra macchina streamer. Ecco un esempio con un bordo di plastica di 2 mm e una lavorazione completa. Dopo la selezione del programma, il tasto VICE può essere utilizzato per caricare il grafico di impostazione. I valori di impostazione sono molto facili da leggere attraverso il grande schermo tattile da 15,6 pollici. Solo i valori segnati in giallo devono essere regolati sulla macchina. Ora i singoli contatori digitali e i manometri sono impostati sui numeri mostrati nel grafico. E la macchina è completamente impostata. Dopo questo facile passaggio avviene il riconoscimento e la macchina è pronta per la produzione. Non esiste un modo più facile e professionale per impostare una macchina manuale così complessa. Indipendentemente dall'abilità e dall'esperienza dei vostri operatori, otterrete ogni volta risultati coerenti e di qualità eccellente. Un altro punto importantissimo è la nuova libreria delle colle. Con il suo aiuto si possono gestire fino a quattro diversi tipi di colla, con le loro diverse proprietà. Il passaggio tra gli adesivi EVA e poliuretanici è quindi un gioco da ragazzi e tutti i parametri importanti come la temperatura di lavorazione, i valori di pressione e anche le diverse viscosità dell'adesivo sono presi in considerazione nel rispettivo profilo. Il valore di pressione corretto per il gruppo colla brevettato Glue Jet, che controlla anche la nostra quantità ottimale di colla in base al materiale del pannello, viene trasferito automaticamente al sistema WISE che tiene conto dei parametri di ogni colla. Anche i punti a entrata e uscita della colla sono regolati automaticamente in modo ottimale, a seconda della viscosità dell'adesivo. Questo significa che tutti i principali tipi di colla sono disponibili in qualsiasi momento con valori di regolazione ottimali a seconda dell'applicazione. Colla EVA bianca per i vostri pannelli a colori tenui. Colla poliuretanica bianca per i vostri mobili impermeabili di colore chiaro. Colla trasparente EVA per decori più colorati. E infine, colla poliuretanica trasparente, ad esempio per pannelli scuri e strutturati. Niente più compromessi per la vostra qualità e tutto congiunzione invisibile. Il gruppo rettificatore in entrata è dotato di due frese brevettate Airstream e assicura una superficie di incollaggio perfetta senza crepe nello strato superiore. I fori integrati in combinazione con la cappa di aspirazione ottimizzata assicurano una rimozione ottimale dei truccioli. Fino al 99% del materiale asportato viene raccolto direttamente dal sistema di aspirazione. Il sistema è così molto efficace e assicura un'enorme durata di vita degli utensili. In aggiunta queste frese sono anche estremamente silenziose e possono essere riaffilate fino a 4 volte. Il cuore di ogni bordatrice streamer è naturalmente il brevettato e unico sistema di incollaggio GlueJet. Con il gruppo GlueJet è possibile lavorare con colla EVA sia in cartucce che in granulato, che con colle poliuretaniche impermeabili come ormai richiesto per una qualità di giunzione invisibile senza compromessi. Con questo sistema di incollaggio, la bordatrice è pronta all'uso in soli 3 minuti e si raffredda altrettanto rapidamente. Il breve tempo di riscaldamento e il basso consumo energetico fanno della bordatrice streamer un vero punto di riferimento dell'efficienza energetica. Con il sistema GlueJet la colla viene spinta ad alta pressione all'interno del pannello. Grazie alla divisione del pettine di spalmatura a incrementi di 1 mm, vediamo come, ad esempio, in un pannello da 19 mm siano applicate 19 strisce esatte di incollante. Durante la successiva fase di pressatura, il collante viene steso da cima a fondo, creando così una giunzione omogenea totalmente invisibile. Allo stesso tempo, questo sistema brevettato assicura un'aggiunzione ad alta resistenza allo strappo. Con GlueJet il cambio colla è semplice, veloce e pulito. Così le colle EVA poliuretaniche o le colle colorate possono essere cambiate in pochi minuti, a seconda dell'applicazione necessaria. Le quantità residue nel sistema adesivo vengono semplicemente scaricate nel contenitore di raccolta GlueJet fornito a questo scopo. Il processo di lavaggio avviene attraverso la cartuccia di pulitore, attraverso il foro integrato nel GlueJet. Nel frattempo, il nuovo collante viene caricato, mentre il pulitore sta spingendo fuori il precedente. L'intero processo funziona quando si cambia dal poliuretano a EVA o viceversa. In questo modo avrete sempre l'adesivo giusto per i vostri risultati perfetti. La pulizia del sistema è un gioco da ragazzi e richiede solo pochi istanti. Quando si usano gli adesivi EVA, l'adesivo può rimanere nel sistema e solo l'ugello di applicazione dell'adesivo deve essere pulito. Il ponte della macchina viene portato alla massima altezza, in modo che l'ugello del GlueJet sia completamente aperto e accessibile. I residui di colla vengono rimossi in modo semplice con una pistola ad aria compressa e poi l'ugello viene pulito con una spazzola metallica fornita in dotazione. Detto e fatto, il sistema si pulisce in un solo minuto. La colla poliuretanica può rimanere nella stazione adesiva fino a 48 ore. Dopodiché, di solito prima del fine settimana, l'intero sistema deve essere lavato e neutralizzato con la pressione, la temperatura e la quantità di detergente corretto. I pulitori speciali per colle PUR sono usati per lavare il sistema e prevenire ulteriori reazioni chimiche. In seguito, l'ugello viene pulito, così come con l'adesivo EVA, tranne che l'ugello viene ulteriormente sigillato con il pulitore. E ancora una volta, tutto è pulito in meno di qualche minuto. Che si tratti di bordi sottili, di tutti i comuni bordi in plastica o di bordi in legno massiccio, Con la Streamer siete sempre dalla parte giusta, per un risultato perfetto. Il sistema Glue Jet vi rende molto flessibili e potete sempre rispondere ai desideri dei vostri clienti in modo individuale, rimanendo competitivi. Il supporto di configurazione con Vice e la libreria di colla unica in questo segmento di mercato vi supportano in un modo senza precedenti. La bordatrice è fondamentale per l'aspetto di alta qualità dei vostri mobili. Non vivere più con i compromessi o con le vaschette di colla incrostate. Porta in casa tua una tecnologia di bordatura pulita, efficiente e conveniente di altissima qualità. Con Streamer. Convincetevi della tecnologia professionale di bordatura di Holzer. Non vediamo l'ora di vedervi. Non vediamo l'ora di vediamo l'ora di vediamo l'ora di vediamo.